Su iniziativa dell'Istituto Comprensivo Maria Montessori, in collaborazione con altre realtà scolastiche e associative e col patrocinio del Comune, sabato scorso 25 novembre è stata celebrata a Caltagirone la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo il corteo cittadino, in piazza Municipio, si è tenuto un momento di raccoglimento con gli interventi degli studenti. Alle 11, nel salone di rappresentanza Mario Scelba del Municipio, convegno introdotto e moderato dalla dirigente scolastica Adele Puglisi. Sono intervenuti l'assessore al welfare e alle politiche scolastiche Concetta Mancuso, la giornalista Giuliana Buzzone, la mediatrice familiare Maria Concetta Bologna, la psichiatra Maria Grazia Sotera, l'esperto in psicologia criminale e investigativa Gaetano Galesi, l'avvocato Rossana Di Stefano e il magistrato Sabrina Gambino. Durante la mattinata attività educative sono svolte al Montessori a cura del Leo Club Caltagirone. Io veramente sono rimasta emozionata e commossa e sorpresa della sensibilità di questi giovani, non solo i grandi del liceo ma anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Veramente ragazzi profondi che hanno dimostrato di conoscere questo fenomeno, perché è un fenomeno che ha dei tratti salienti e che si ripetono in quasi tutte le storie. E questo fa sperare bene per il futuro, perché poter prevenire questi fenomeni nel momento in cui si verificano all'interno di relazioni affettive, dove si registrano fenomeni di gelosia, fenomeni di violenza, di insulti anche di carattere verbale, perché la violenza non è solo fisica ma è una violenza anche di tipo psicologica. Penso che se i ragazzi conoscono questo fenomeno possono meglio affrontarlo, possono trovare quegli aiuti all'esterno per poter reagire. E già i ragazzi lo hanno detto, hanno invitato i loro coetanei a parlare, a reagire, a denunciare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica. Questo fa ben sperare e mi auguro che queste giornate di sensibilizzazione fatte nelle scuole, fatte insieme con tutte le istituzioni, il comune, le scuole, le associazioni di volontariato, mettendoci insieme sicuramente riusciremo ad arginare il fenomeno e a far sì che episodi tragici e terribili come quelli subiti da Patrizia Formica non si possano ripetere né a Caltagirone né in nessuna parte del mondo. Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale, in occasione di questa giornata che ricordiamo è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ho proposto appunto in attesa della delibera della mia mozione che è appunto posto occupato, che ho presentato lo scorso aprile in Consiglio Comunale e che è stata approvata all'unanimità, ho proposto appunto di riservare un posto occupato sia in ricordo della nostra carissima concittadina Patrizia Formica che sappiamo tutti ha perso la propria vita a causa appunto perché è stata accoltellata dal suo compagno. Ancora ecco se parlo di Patrizia Formica non posso nascondere l'emozione che provo per questa nostra concittadina. Ho proposto appunto di riservare un posto occupato sia in memoria della nostra concittadina ma in memoria di tutte quelle donne che sono vittime di violenza e quando parlo di violenza intendo sia una violenza fisica ma anche una violenza psicologica. Posto occupato è una campagna di sensibilizzazione che è partita nel 2013 dalla provincia di Messina. L'ideatrice di posto occupato è Maria Andaloro. Il senso di posto occupato è appunto riservare il posto a quelle donne che sono state vittime di violenza e che appunto hanno perso il loro posto nella società. Il senso di posto occupato è quindi quello di non dimenticare queste donne e di non lasciare il posto vuoto bensì riservarlo a queste donne che sono state vittime di violenza. È importante che sia gli studenti che i cittadini in generale comprendano che il tema della violenza contro le donne è un tema importante e che va approfondito soprattutto perché colpisce molte donne e le colpisce anche accanto a noi senza che noi ce ne rendiamo conto. Ed è importante che le nuove generazioni crescano con un atteggiamento costruttivo, esista una nuova socialità, un nuovo modo di intendere la cultura e per questo credo che sia importante il linguaggio che viene utilizzato nella narrazione di questi truci eventi perché ciascuno di noi forma la propria personalità, le proprie opinioni in base alle esperienze personali indirette e dirette ma anche attraverso quello che legge, quello che senti e ascolta in televisione ed è importante a mio avviso e anche di questo noi ci occupiamo con l'associazione Sciamo Officine imparare con gli strumenti adatti ad utilizzare un linguaggio consono anche nella narrazione di questi fatti soprattutto superando gli stereotipi che sono purtroppo la base della formazione delle discriminazioni in generale. Io sono rimasta veramente meravigliata, però positivamente meravigliata della sensibilità, dell'attenzione e anche della delicatezza con cui hanno affrontato questo argomento che sappiamo ha dei risvolti negativi e un ringraziamento, un apprezzamento particolare sia come avete visto per giovanissimi studenti minori ma anche chiaramente giovani del liceo che ovviamente in maniera diversa, con performance diverse hanno sicuramente dato la loro voce e di questo sono veramente fiera, al loro cuore, al loro animo, hanno parlato a tutta la cittadinanza col cuore. La violenza sulle donne da un ragazzo della mia età viene vista intanto come una cosa strana ovviamente che magari poi in base a un ragazzo educato bene che sa che ovviamente gli sembra strana questa cosa per un ragazzo che cresce in una famiglia dove c'è il padre che violenta la madre ovviamente o è portato a farlo o è portato ad odiare ancora di più la violenza sulle donne è comunque una cosa che gli resterà segnata. L'educazione ovviamente è fondamentale, il corteo serve per dare maggiore visibilità soprattutto a questa giornata ovviamente e che comunque la violenza sulle donne è da combattere. L'odore della carne, della mia carne, che brucia, mi arriva alle narici affolate, portate dal vento e nell'andare e venire della mia coscienza. Tra il fumo vedo un'ombra, la sua sagoma, il mio ragazzo. E' andato, sta andando tutto il fumo, il primo bacio, il batticuore quando l'ho visto, le mie mani sul suo viso e poi la voce che si alza insieme alle mani. Le mie braccia si alzano in segno di reso, in segno di protezione del mio corpo, della mia vita. Non può essere, non può essere che il suo sguardo dolce, innamorato, si sia all'improvviso mutato in occhi omicidi, femminici. Solo il sangue scorre, l'odore di benzina è sui miei vestiti, la benzina è fredda, riscalda. E poi, clic, la fiamma, una torcia, l'odore della carne, della mia carne, che brucia. Sono io, solo 25 anni, mi lascia qui, è tutto un fumo, è tutto nero, tutto andato in fumo, i miei 25 anni, la mia vita. Sono diventato un numero, una vita bruciata, ero una donna in luce, ero luce nella mia famiglia, nel mio mondo. E ora, sono carbone ardente, ormai spento, per sempre. Grazie.